un altro campione italiano concorre con la maremmana rondinella è la volta di Renato Chiarini e si può preparare Simone Bagnesi e poi al termine Roberta Attili tutto è pronto una razza maremmana rondinella per questa morella sul podio italiano in monta da lavoro tradizionale ed ora con Renato Chiarini team Generini a presto 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 e va a chiudere sicuramente mangi di controllo per l'esperto Renato Chiarini 79 e 79 un errore tempo finale di 84 per il terzo miglior tempo dopo la prima match 84 e 79 a montare Rondinella pura razza a mare in mana Renato Chiarini tutto è pronto da Firenze Renato Chiarini partito e si va a lanciare prima difficoltà ponte con spostamento dell'oggetto partito e si va a lanciare Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.